carissimi amici buongiorno e ben ritrovati chi vi segue lo sa mi occupo sempre di video beh oggi è un caso un po eccezionale perché vi sto per parlare di qualcosa che riguarda videomaker e fotografi in particolare chiaramente mi riferisco sempre al mondo del video ma attenzione perché i due accessori di cui vi sto parlando vengono utilizzate spessissimo anche da fotografi e vi spiegherò il motivo allora nello specifico sto parlando di due filtri sono due filtri diversi uno è un filtro nd variabile ne parleremo fra poco e l'altro è un filtro anti laser la parola lo racconta da sé e infatti per la prima volta non potrò farvi vedere nulla di concreto ma vi farò capire il vero senso di avere una cosa del genere partiamo adesso lasciamo un attimo l'anti laser lo appoggio qui e partiamo dal filtro nd precisamente nd 3000 ve lo faccio vedere è qui nella sua custodia un filtro della case ecco avevo dimenticato di dirvi che vi sto parlando in entrambe gli articoli di questa casa chiamata case appunto la case è una casa che secondo me fa materiali di buona qualità pur mantenendo un prezzo molto abbordabile e soprattutto spinge tantissimo nell'approccio magnetico che cosa significa tutti i filtri sono dotati di un supporto ad aggancio magnetico vedete questo magnetismo nel caso specifico del filtro nd di cui vi sto parlando è dedicato al tappo che oltre ad avere una copertura in velluto quindi capace di evitare di fare graffi all'ottica al filtro è in grado di aggrapparsi proprio al filtro stesso filtro che si occupa di fare cosa beh intanto bisogna capire di fotografia o di video in particolare per quanto riguarda il video bisogna capire che nel video è molto importante mantenere il rapporto tra i frame per secondo e i tempi dell'otturatore al doppio detto questo ritornando quindi al filtro nd si rende necessario nel mondo del video nella fattispecie nei casi in cui ci si trovi in condizioni di forte luminosità e per forte luminosità si intende o la luce del sole o anche un ambiente dove c'è particolarmente intensità luminosa siccome sappiamo che dobbiamo mantenere i tempi al doppio del frame per secondo esempio 25 frame per secondo stiamo girando in 25 frame per secondo e quindi necessariamente dovremmo impostare i tempi a un cinquantesimo di secondo questo chiaramente ci obbliga ad avere una quantità di luce a patto di regolare iso e diaframma ma ve la voglio far difficile mettiamo che io voglio mantenere il mio diaframma particolarmente aperto perché voglio avere un effetto di profondità di campo uno sfocato accentuato tra il soggetto e lo sfondo e ho già chiuso al massimo gli iso e malgrado questo ho tanta luminosità ecco che entra in gioco appunto il filtro nd il filtro nd si rende praticamente obbligatorio dal momento in cui volete gestire in autonomia il vostro diaframma quindi non necessariamente dovete andare a chiudere il diaframma perché sennò entra troppa luce dovendo mantenere i tempi io i tempi li mantengo sempre a un cinquantesimo laddove si appunto ci si trovi a girare a 25 fps e quindi a quel punto sono costretti a chiudere il diaframma o gli iso o a manovrare gli iso no ecco si usa il filtro nd che come potete vedere si occupa di oscurare un po come fa un occhiale da sole il nostro obiettivo l'entrata della luce sulla parte appunto di acquisizione della luce dell'obiettivo in questo modo potrò lasciare i tempi invariati gli iso invariati il diaframma invariato e sarà lui a gestire l'esposizione come se non bastasse questo porta con sé una variazione fluida senza scatti fotografici cioè senza scatti classici di apertura di un diaframma o di tempi laddove non doveste avere delle ottiche cinematografiche che invece appunto hanno un diaframma variabile ecco che questo accessorio oltre a darci questa fluidità appunto di apertura e chiusura ci dà anche la possibilità di ridurre la luce nel momento in cui ci troviamo con una forte intensità di luce che entra sul sensore io lo uso spessissimo soprattutto in ambito matrimoniale dove le luci non sono controllate perché tutto è run and gun cioè prendi la macchina devi girare quello che succede succede e quanta luce entra lo decide solo il padre eterno quindi con questo io posso lasciare il mio diaframma completamente aperto laddove volessi avere appunto lo stacco dei piani e poter andare quindi a dosare l'intensità luminosa quale sono le peculiarità di un filtro nd beh intanto l'accuratezza con cui lo stesso deve essere costruito cioè un filtro nd chiaramente va è una lente a tutti gli effetti no è fondamentalmente un vetro quindi che cosa succede che nel momento in cui si mette davanti alla nostra ottica potrebbe creare degli artefatti ad esempio gli artefatti più comuni dei filtri nd a chiusura variabile come in questo caso perché poi esistono anche le lastre fisse che chiudono un top stop fissi invece in questo caso l'accuratezza la bellezza di questo filtro è proprio che noi regoliamo la quantità di quanto vogliamo far entrare la luce a secondo di quanto è presente la luce in quel momento ed è molto più pratico no quindi le peculiarità di un filtro nd sono la qualità costruttiva del vetro che permette di evitare aberrazioni riflessioni strane cose varie oltretutto protegge anche se vogliamo anche la nostra macchina il nostro obiettivo nel momento in cui dovesse qualcosa accidentalmente colpire il nostro obiettivo certo si riovinerebbe lui ma comunque sarebbe salva l'ottica che costa molto di più sempre parlando delle difficoltà appunto delle caratteristiche di un filtro nd potremmo elencare a tutta chiusura gli artefatti che si creano cioè ci sono dei filtri nd che a tutta chiusura come in questo caso creano una classica effetto ad x cioè delle una sorta di vignettatura ad x sulla nostra ripresa parliamo di quando chiudiamo completamente il nostro filtro ebbene non è il caso del case scusa il gioco di parole infatti anche a tutta chiusura abbiamo un ottimo risultato di quello che è appunto questo difetto chiamiamolo così dei filtri nd per quanto riguarda altre caratteristiche di cui dovete tenere in considerazione quando scegliete un filtro nd beh possiamo parlare per esempio del diametro della grandezza della grandezza appunto del filtro più è piccolo più sarete in difficoltà nel momento in cui dovrete cambiare appunto fil o obiettivo l'obiettivo infatti chiaramente sapete tutti esistono di vari diametri ecco comprare un filtro nd con un diametro più grande il più grande che avete a disposizione vi consente di poter montare poi questo filtro su tutte le ottiche più piccole viceversa un filtro nd piccolo poi dovrà necessariamente essere sostituito da un filtro nd più grande con spese aggiuntive quindi quando pensate un filtro nd comprate il diametro non dico più grande ma almeno quello che pensate di raggiungere come massima apertura e a proposito di dimensioni normalmente io vado sul diametro almeno 82 questo ad esempio è un diametro di 77 mm questo sta ad indicare che su focali da 77 ci andrà preciso questo invece che ad esempio una focale 12 35 micro 4 terzi è un 55 mm niente paura vi basterà cercare questo tipo di anelli adattatori ci sono da diametri piccolissimi a grandissimi ve li vendono in un package dove avete tutti i diametri e potete tranquillamente adattarli andando a scegliere il diametro giusto quindi a ridurre vedete a ridurre il diametro da un 77 a un 55 vi lascio in descrizione tra le altre cose un link per poter acquistare questi anelli adattatori che costano poche pochissimi euro e in questo modo potete quindi adattare il vostro filtro nd a qualsiasi focale quali altre note mi sento di dirvi beh un filtro nd comunque chiude almeno uno stop normalmente appena lo inserite quindi è chiaro che se vi trovate in notte fonda eviterei di utilizzarlo quindi io normalmente quando faccio matrimoni lo metto a inizio giornata lo tolgo quando fa buio ma tutto il tempo invece mi aiuta benissimo durante le mie fasi di lavoro questo case mi aiuta ancora di più perché vedete che lateralmente c'è questa levetta che mi aiuta a girare appunto il filtro in maniera molto più agevole insomma case ha pensato veramente a tutto con un tappo magnetico che vi posso garantire che soprattutto quando si lavora in ambito matrimoniale è veramente utile da avere perché velocissimamente lo si rimette e lo si ripone poi si pone la macchina nello zaino senza il limite la paura di doverlo magari rovinare e insomma è velocissimo da utilizzare molto molto comodo con una qualità eccellente andiamo a parlare di quest'altro filtro come vi dicevo un filtro laser che cos'è un filtro anti laser eccolo qui lo vado a prendere qui in questa custodia anche in questo caso ci troviamo a disposizione di un magnetismo come potete vedere eccolo qui che si attacca in questo modo che cosa si attacca però il filtro anti laser all'anello adattatore per le varie focali questo è un filtro di diametro 82 quindi un po più grande di quello che abbiamo visto prima ed è per questo che ho appunto montato un anellino adattatore che va posto davanti alla macchina fotografica case ci dà il suo anello che dà la possibilità appunto di magnetizzare in questo modo viene venduto così quindi voi lo andrete a avvitare ma nel momento in cui lo volete togliere perché non vi interessa averlo basterà staccarlo magneticamente ok che cosa fa questo filtro e a chi è utile beh fondamentalmente è utile a tutti coloro che fanno eventi dove sono presenti le luci laser io non so quanti di voi lo sanno e quanti di voi ci hanno rimesso le penne della propria macchina fotografica esistono infatti evidenti problemi quando si punta la nostra macchina anche accidentalmente verso una fonte luminosa al laser sapete i classici laser che si usano in discoteca o agli eventi o ai concerti o alle manifestazioni beh in tutti quei parti in tutti questi eventi se vedete quel tipo di luce attenzione a cambiare direzione della focale verso la macchina perché in un batter baleno vi ritroverete con il sensore bruciato almeno in parte è capitato a tantissimi miei colleghi io per fortuna mi sono sempre salvato da questo punto di vista ma ho sempre avuto paura ed è per questo che case mette a disposizione questo filtro che preserva chi appunto fa questo tipo di eventi dal rischio di appunto bruciature del sensore sta a voi capire quanto per voi è importante certo che se voi fate foto naturalistiche non avete buon modo e necessità di acquistare una cosa del genere ma se siete avvezzi alle foto d'evento beh vi consiglio vivamente di comprare un filtro del genere lo metto a disposizione come vi dicevo quella case altra particolarità di questo filtro è la riduzione dei toni gialli quindi se volete fare qualcosa di notte ad esempio a roma sono famose le luci classiche gialle proprio dell'illuminazione notturna romana ecco che con questo filtro ottenete un aspetto molto più naturale meno giallo appunto peculiarità o caratteristiche del filtro non lo so loro lo danno come un vantaggio in tutti i casi sappiate che questo è un altro degli aspetti come tutti i filtri chiaramente mangia uno stop quindi dovete sapere che avete uno stoppino in meno però vi preserva al mille per mille dalla possibile rottura del vostro sensore dei vostri pixel del sensore se avete maggiori richieste informazioni vi lascio comunque riferimenti qui sotto ma spero di avervi dato elemento di riflessione interessante sul mondo dei filtri che tra le altre cose non avevo mai affrontato quindi vi ringrazio noi ci vediamo al prossimo contenuto e se non sei iscritto iscriviti al nostro canale ciao